Cesidio del Beato è il nuovo allenatore del Pacentro, una persona di esperienze e carattere per una squadra giovane e quanto viene sottolineato in una nota della società che ritiene del Beato l'uomo giusto, indipendentemente dal tipo di campionato che si andrà a disputare, la seconda categoria o la prima, se dovesse esserci ripescaggio. Cesidio del Beato, classe 1963, vante esperienze nei campionati dilettantistici a Prato-Laraiano, Michetti-Tocco da Cassauria e nelle ultime due stagioni a Popoli. La società del Pacentro Calcio si ritiene estremamente soddisfatta per questa nuova comunione, si legge ancora nella nota della dirigenza che augura buon lavoro al nuovo mister che si sta adoperando sin da ora per allestire la squadra. Nei prossimi giorni verrà annunciato anche lo staff tecnico che assisterà a Cesidio del Beato nell'impegnativo compito. Il club pacentrano coglie l'occasione per ringraziare Pietro Cardilli, fresco di patentino d'allenatore UEFA-B per il positivo lavoro svolto nei due anni alla guida del Pacentro, frutto di 42 vittorie in 54 partite insieme ad una promozione dalla terza alla seconda categoria e al secondo posto nello scorso campionato.